Un fitto calendario di iniziative volute da associazioni di volontariato e di categoria enti pubblici e privati nell'ambito del progetto Nutrire Ravenna si svolgeranno in città dal 12 ottobre al 30 novembre con il fine di ampliare la rete di contrasto alla povertà e promuovere il diritto al cibo. Nutrire Ravenna è stata l'occasione e lo sarà per la nostra città di avviare una riflessione comune insieme alle associazioni di volontariato, alle associazioni di categoria, ai soggetti della grande distribuzione, agli operatori della ristorazione e del confezionamento del cibo, occasione appunto di produzione di pensiero comune sul tema della lotta allo spreco alimentare e della presa in carico della povertà alimentare. Lo è stato durante la prima edizione del progetto nel 2015 lo sarà nell'edizione di quest'anno con una serie di eventi, di convegni ma anche di formazioni rivolte agli esercenti e ai volontari proprio sul tema della lotta allo spreco alimentare. Il tavolo si è costituito, ricostituito nel mese di febbraio di quest'anno e nel corso di questi mesi abbiamo prodotto diverse, ci siamo confrontati su diversi progetti futuri che la nostra città potrà ospitare, ci siamo confrontati sui progetti esistenti e inizieremo appunto a partire proprio dal 12 di ottobre insieme all'onorevole Gadda che è materialmente la prima firmataria della legge contro lo spreco alimentare, inizieremo a ridiscutere insieme non solo col pensiero rivolto alla nostra città ma col pensiero rivolto appunto in generale ad una grande battaglia che è la battaglia del nostro tempo, quella appunto dello spreco alimentare e della povertà alimentare. Fritto calendario, come è articolato? Sono previsti due convegni, il primo appunto il 12 di ottobre con l'onorevole Gadda, la presenza dell'onorevole Gadda, il secondo il 25 di novembre insieme alle associazioni del territorio e ospitando associazioni che arrivano fuori da fuori Ravenna per mutuare delle buone prassi, confrontarci sulle esperienze che avvengono fuori dalla nostra città, la mostra i buoni del pane che verrà ospitata alla Sala Buzzi sarà itinerante durante le altre iniziative e diversi altri eventi di formazione che verranno ospitati anche dalla sede di confe esercenti delle associazioni di categoria rivolte agli operatori e volontari della città.